Buonasera, è una settimana forse la più importante di tutte quelle che abbiamo vissuto per le sorti dell'Arezzo. Giovedì alle 9.30 ci sarà l'udienza al Tribunale Fallimentare per la richiesta di esercizio provvisorio. È una corsa contro il tempo innanzitutto per raccogliere fondi. Oggi c'è stato un altro appello del sindaco di Arezzo che ci dice che è stato raccolto circa la metà di quello che servirebbe per pagare la scadenza del 16 di venerdì che è la condizione che serve affinché la squadra riprenda il suo cammino perché altrimenti probabilmente calerebbero i titoli di coda visto che la Lega comunque non darebbe altri benefit all'Arezzo e quindi comunque sia ci sarebbe la prima sconfitta a tavolino se l'Arezzo non dovesse presentarsi. Ce ne occorgono quattro per arrivare al provvedimento di radiazione però sarebbe davvero l'inizio della fine. Ovviamente si spera che accada qualcosa in questi giorni mentre da Roma sentiremo anche le parole di Gatto, di Neos che continua a dire malgrado finora di questi annunci non ce n'è stato al momento uno che sia a parte che alcuni debiti che sono stati pagati però gli altri annunci sulla cessione non sono mai stati formalizzati e lui dice che domani ci sarà questo annuncio. Io saluto Mario Tralci, consigliere regionale della FIGC. Buonasera Mario, bentornato. Poi con te vedremo più tardi anche alcune immagini della bella esperienza che hai avuto all'UEFA e del sorteggio che c'è stato di questo importante evento a livello giovanile. Saluto Mirko Latorraca, benvenuto, che non sarà allenatore ma anche segretario comunale di Fratelli d'Italia perché è stato l'unico movimento che a dicembre quando tutti osannavano Matteoni l'unica nota che era arrivata da Francesco Lucacci che aveva fatto un'indagine anche a livello di visure eccetera e aveva detto che c'erano dei dubbi che le cose non erano chiare. Sì, fu fatta una ricerca proprio perché volevamo vederci un pochino più chiaro. Non lo so, all'epoca dei fatti diciamo che avevamo sollevato delle perplessità molto semplicemente e qualcuno ci ha anche schiernito dicendoci che magari eravamo lì per gufare o per fare gli avvoltoi. Noi semplicemente volevamo che chi gravitava intorno a questo problema dell'Arezzo diciamo avesse le credenziali e le garanzie necessarie per poter risolvere appunto il problema. Purtroppo oggi devo dire che quelle perplessità sono emerse e si sono dimostrate vere. Prima di sentire il sindaco, Mario, che sensazioni hai? Ovviamente tu ricordi anche i precedenti che purtroppo hanno visto coinvolto l'Arezzo, quello del 93, quello più recente, però erano quello del 93, è clamoroso, insomma probabilmente l'Arezzo subì, anzi senza probabilmente una grande ingiustizia. La volta scorsa fu un po' diverso perché comunque era estate, era finito il campionato. Qui la situazione è veramente surreale per il modo in cui c'è stato questo intreccio di eventi, di passaggi societari, c'è un esposto di orgoglio amaranto, il procuratore pare sia già nelle mani del procuratore Rossi perché già una società che passa di mano tutte queste volte nel giro di pochi mesi quasi inevitabilmente dovrebbe accendere l'attenzione di chi magari indaga. Ecco, che sensazione hai? La sensazione di essere qui questa sera, di aumentare un fatto così, mi lascia veramente a disagio perché vorrei essere qui a parlare dell'Arezzo, dell'aspetto tecnico, delle gare, delle partite e magari con qualche soddisfazione in più. Riparlare nuovamente di una situazione così dove addirittura la federazione ha cercato in qualche modo di venire incontro e di aiutare perché un secondo caso come è stato quello di Modena creerebbe grossi problemi, anche se è ancora peggio perché l'Arezzo in questo momento è il giro di ritorno, sappiamo che non si azzerano tutti i risultati conseguiti come è successo con il Modena, ma rimangono i risultati fatti sul campo. Quindi questo mette a disagio anche l'organizzazione perché comunque qualcosa che non ha funzionato non c'è. Tornando al discorso dell'Arezzo, ripeto, per noi di Arezzo è veramente un'altra ferita grossissima a tutta l'organizzazione calcistica, a noi che siamo amanti di questo sport e rivedere il nostro punto di riferimento. Io parlo anche che sono all'interno della federazione ma che so nel settore dei dilettanti, per noi l'Arezzo è un punto di riferimento per tutte le società dilettantistiche, per tutti i nostri ragazzi che fanno settore giovanile. Quindi dovrebbe essere proprio il centro più importante, vedere che questo non funziona veramente ci lascia perplessi. Speriamo che in questi ultimi giorni veramente qualcuno si metta veramente nella possibilità che sia di Arezzo possibilmente. Questo lo ritengo perché quello di Roma sono film già visti, già rivisti, che abbiamo ormai, se sapeva, questo passaggio di mano continuo, ormai è una cosa che sapevamo tranquillamente, ma è la fine è questa. Quindi andiamoci da fare gli ultimi giorni, fra tutti, in primi e se il sindaco, a cercare di aiutare questo Arezzo, di sollevarsi e di finire almeno il campionato per poi avere più tempo per gettare delle basi importanti. Allora, sentiremo adesso il sindaco, perché oggi oltre all'appello diciamo c'è una dura presa di posizione nei confronti di un articolo che oggi è apparso sul quotidiano La Nazione, l'articolo del collega Salvatore Mannino, che in sostanza citando autorevoli fonti giudiziarie ha scritto prima che difficilmente comunque, poi Maggio dici, anche tu sei un'imprenditore, difficilmente o forse è impossibile che giovedì ci sia il verdetto, cioè giovedì secondo te si può sapere se questo esercizio provvisuale viene concesso o di solito il giudice si riserva? Ma questo dipende dal giudice, logicamente, io nella situazione tecnica non lo so, però è chiaramente il giudice che deve esprimersi, se può concedere o meno, ma lui lo concederà, solo nell'ipotesi che certi spese siano coperte da l'età orale a fine del campionato, perché non può permettersi il lusso di avere la gestione e poi di fare ulteriori debiti. Quindi sicuramente lui vuole avere delle garanzie e qui dal 16 in poi che ci siano delle persone o comunque in Sosia che danno l'opportunità di coprire tutta la gestione fino al 30 giugno di quest'anno. Quindi, ripeto, auguriamoci che ci siano queste persone. Sentiamo allora il Sinaco, poi anche con Mirko commentiamo queste parole. Oggi nuova lettera aperta del Sindaco Ghinelli, in particolare dopo un articolo uscito oggi sulla Nazione. Ecco, perché questo nuovo messaggio? Il messaggio sostanzialmente è un po' per non dare come per acquisita la soluzione, i fatti che sono stati riportati dal giornale della Nazione circa quasi impossibilità o pratica impossibilità di arrivare a un esercizio provvisorio in maniera rapida da consentire il pagamento entro il 16. Quindi volevo e desidero dare tranquillità a chi è ancora disposto a finanziare questa operazione, che l'operazione è possibile, difficile, difficilissima quanto vogliamo, ma è possibile. Altrimenti non saremmo qui a perorare per far sì che ci fossero ulteriori versamenti da parte degli imprenditori. Quindi qui il secondo punto, anche il primo, quello principale, che io avevo già in mente prima ancora di leggere i giornali questa mattina, che era quello di fare un appello attraverso i mezzi di informazione per far sì che anche tutti coloro che non ho contattato, che sono certamente molti di più rispetto a quelli con cui ho parlato, parlo di imprenditori, professionisti, esercenti, soggetti che svolgono l'attività economicamente rilevante nel nostro territorio, possano contribuire con un versamento in un apposito conto corrente di cui ho dato le coordinate, attraverso un versamento corpore, cioè un versamento da 1000 Euro in su, che può essere o anche se anche cospicuo, se il soggetto ha in qualche modo intenzione di entrare nella società o vuole svolgere una sponsorizzazione importante, ma se così fosse stato avrebbe già parlato con me, ma anche soltanto per sostenere la nostra squadra. Io credo che una città come la nostra, che è una città produttiva che ha il più alto della Toscana meridionale, possa tranquillamente trovare questi 370 mila Euro che servono per il 16 di marzo e per continuare a sperare nel futuro della squadra di calcio della nostra città. Manca molto a raggiungere questo obiettivo o siamo vicini a raggiungere questo obiettivo? Siamo a metà strada più o meno, un pochino più che metà, siamo a metà strada diciamo e quindi c'è da impegnarsi in questi due giorni che mancano. Io torno a ripetere, la nostra è una città, qualcuno malignamente ha detto non è una città ricca ma è una città di ricchi, non è vero, è una città ricca e soprattutto ricca di valori, ma è ricca anche perché ha un'imprenditoria vivace, un'imprenditoria non posso dire florida, perché è il momento di crisi per tutti, ma sicuramente in grado di produrre un finanziamento alla fine nemmeno troppo pesante, se si pensa a certi fatturati di certe aziende cittadine. Quindi io ringrazio chi ha già fatto e stimolo sinceramente chi non l'ha ancora fatto a darci una mano per arrivare a salvare la squadra. In questa metà hai già calcolato anche quegli imprenditori che fanno capo a piegoni? Sì, assolutamente sì, è chiaro, ci sono anche loro dentro. Io non posso guardare in questo momento troppo a chi mi mette in mano dei soldi, bruttissima espressione, però è così, si tratta di sostenerla, qualcuno di loro ha intenzione di proseguire nel cammino perché vede nell'Arezzo un buon veicolo sportivo per avere delle soddisfazioni nei prossimi campionati, ma bisogna ripartire dalla C, per ripartire dalla C occorre pagare due botte di stipendi adesso e a metà maggio. Siamo ripartiti, allora Mirco abbiamo sentito le parole del Sindaco, chiaramente l'appello che arriva oggi ribadire oltre a tranquillizzare rispetto a quello che aveva scritto la Nazione che poi aggiungeva anche che l'esercizio provvisorio viene concesso se non vengono danneggiati i creditori e quindi dice che l'Arezzo presenterebbe un piano solo di entrate e uscite, l'articolo conclude dicendo basterà ai giudici, comunque è chiaro che è veramente una corsa contro il tempo, secondo te si può essere fiduciosi o che realisticamente è difficile che in tre giorni arrivino questi soldi? Realisticamente bisogna essere realistici appunto, quindi bisogna sperare, l'Arezzo sta vivendo un dramma sportivo, il Sindaco sta facendo tutto quello che è nelle possibilità per cercare di trovare una soluzione, però purtroppo dobbiamo essere appunto realisti, la soluzione comunque sia diventa sempre una toppa, nel senso poi il problema lo posticipi, si riproporrà fra qualche mese cioè il problema è che la speranza di trovare persone seriamente interessate a salvare l'Arezzo quindi a rimettere il debito che l'Arezzo ha e programmare insieme al Sindaco, all'amministrazione comunale che comunque non hanno nessun problema, in questo senso appunto a sviluppare un progetto per il futuro, perché altrimenti è un procrastinarsi soltanto il problema di qualche settimana o di qualche mese e concludo, i primi a farne le spese sono sicuramente la città, i tifosi non dimentichiamo che ci sono giocatori che non riscuotrano lo stipendio, dipendenti d'Arezzo quindi è un problema veramente difficile in questo momento da capire come si può sbrogliare noi siamo, a parte che anche la squadra fosse scesa in campo, ovviamente dal punto di vista dei debiti cambiava poco, però ci spieghi un attimo cosa cambia invece, finendo la stagione o non finendo la stagione perché so che non è la stessa cosa? Certamente no, perché se finiscono comunque la stagione sarà il campo a stabilire certi risultati quindi l'Arezzo può anche fare altri risultati, vincere e magari salvarsi anche sul campo chiaramente se domenica prossima, la prossima partita, l'Arezzo non si presenta e avrà altre tre possibilità alla quarta scatta praticamente l'esclusione dalla federazione, quindi viene proprio estromessa come è successo al Modena, abbiamo già vissuto qualche mese fa questa esperienza quindi la differenza è enorme, viene secondo me falsato il campionato quindi anche Gravina, il Presidente in questo momento fa di tutto per cercare di aiutare l'Arezzo e lo sta facendo, l'abbiamo visto E poi so che in caso di ripartenza è vero che cambia anche quello, nel senso che se finisci la stagione comunque potrebbe esserci, non che sia in questo momento quello che noi ospichiamo ma non so se è vero però, mi hanno detto che se finisci la stagione il soggetto che eventualmente potrebbe ripartire lo potrebbe fare dalla serie D in caso invece di radiazione o chiamiamolo come vogliamo invece dovrebbe ripartire dai direttanti, cioè dai direttanti, da terza categoria addirittura quindi c'è anche questa differenza c'è anche questa differenza e quindi la cosa insomma sarebbe gravissima abbiamo avuto, perché il mercoledì facciamo la trasmissione sul settore giovanile dell'Arezzo che ha vissuto momenti molto difficili e li continua a vivere abbiamo avuto qui Beppe Forasassi che ha fatto un bellissimo discorso il tuo ex allenatore, perché c'erano due ragazzi qua che sono dell'under 17 che pensa che per un problema di tesseramento sono potuti scendere in campo da quando sono arrivati ad agosto solo a gennaio e non solo hanno aspettato il loro momento ma sono rimasti qui perché sono tra l'altro due ragazzi di fuori e lui prendendo da stimolo queste due situazioni ha detto sostanzialmente che molti dovrebbero prendere da esempio sia chi si avvicina all'Arezzo a livello di imprenditori o pseudotali e forse io forse si riferiva anche alla squadra che c'era forse da imparare da questi ragazzi che solo per la passione per il calcio del rettangolo verde vanno avanti perché è vero che questi calciatori sono senza stipendio da mesi e quindi ognuno ha le sue situazioni non è giusto entrare in quelle che sono le loro scelte però è anche vero che ormai non giocare a mio giudizio non ha senso perché non possono andare da un'altra parte quindi è una scelta sindacale ma non sposta di nulla la loro situazione perché poi la messa in mora quello che è magari la possono fare anche in un secondo momento ci sono state altre situazioni tipo Alessandria il buon Naglio Cardini ci ha raccontato che si trovavano in una situazione senza soldi però la squadra finì il campionato e lo finì addirittura bene tanto che la squadra andò ai playoff quindi quello che chiedo noi diamo per scontato secondo te un appello invece anche alla squadra perché almeno darebbe forse qualche spiraglio in più non lo so l'appello lo possiamo anche fare diventa difficile entra in un campo che è veramente difficile da giudicare nel senso non mi sento né di giudicare male o bene una scelta rispetto all'altra nel senso non mi sento di criticare i giocatori se fanno una scelta diversa da quella di scendere in campo perché ripeto il problema c'è ed è ben visibile a tutti l'appello lo possiamo fare però loro sono vittime come sono vittime i tifosi e tutta la città questo è il mio pensiero perché poi il fatto della hanno anche una famiglia gente che sicuramente su queste entrate potevano far conto per risolvere i loro problemi insomma però arrivare giustamente alla fine del campionato e sperare comunque di trovare delle soluzioni perché tra virgolette e poi loro questi soldi non le perdono totalmente quindi riescono in qualche modo magari con un po' di ritardo ma ad avere questi soldi certo questa è una scelta anche l'associazione ai calciatori secondo me insomma una mano dovrebbe darla sì che poi vabbè mi hanno raccontato poi di quello che è avvenuto qua ecco dei trascorsi ecco che non era proprio ecco come si dice l'esempio no? da seguire comunque a parte questo ha scelto una strada sindacale ho avuto la sensazione che sia stata un po' strumentalizzata questa storia della ghezza anche per un discorso politico in quel momento dell'associazione ai calciatori anche perché dico il fatto della Lega che ha posticipato queste due partite l'ha detto no? perché noi vogliamo garantire cioè non ci hanno assicurato che la squadra finisca il campionato e quindi rinviamo le partite e quindi più che rinviarne due o tre è difficile perché se la squadra avesse detto noi comunque scendiamo in campo come ha giocato l'Arezzo la Michevole Calfano non è per dire però poteva anche giocare la partita di campionato allora che cosa hai cambiato alla fine sì perfetto questa è la realtà ma insomma si spera a questi ragazzi che ci mettano del suo per dare una mano anche loro a questa società perché si possa arrivare almeno alla fine della stagione io credo che se ci sa ancora maggior tempo arrivare tre o quattro mesi davanti per poter ricostruire con qualche personaggio del territorio sicuramente qualcosa di positivo si può fare allora sentiamo adesso queste dichiarazioni che ci ha fatto qualche minuto fa Fabio Gatto di Neos il noto consorzio che in un tira e molla ha rilevato l'Arezzo in una giravolta abbiamo commentato tante volte insomma l'anomalia di questa operazione già a novembre abbiamo fatto vedere la foto delle sedi legali delle società che compongono il consorzio in alcuni casi erano delle case private ora tutto poteva essere insomma già quello era abbastanza indicativo poi non si è mai capito perché loro prima comprano l'Arezzo poi mandano una raccomandata dicendo che sostanzialmente uscivano poi spunta Matteoni dal nulla bravo è perché ha convinto praticamente quasi tutti poi Matteoni si ritira dopo le varie promesse che ci sono state e ritorna Neos che per la verità non è mai uscita perché comunque aveva mantenuto il 15% e anche nell'ipotesi di questa anche qui è l'altra anomalia cioè vende al fondo di Malta o quello che è questa società di Malta però rimangono sempre con il 15% che avevano lasciato che avevano mantenuto quindi anche questo insomma è abbastanza strano sentiamo che cosa intendono fare come mai stava ritardando questo annuncio se c'è qualche problema su questa cessione no nessun problema il problema è aspettare il congiorno Maranto che deve dare l'ok sui dettagli relazioni tutto quello la documentazione è stata inviata ricevuta è stata inviata ricevuta per PEC il congiorno Maranto non è una PEC ci va a Cuciniello che abbiamo congiorato lì e sulle mail ordinarie lì al congiorno Maranto quindi nel caso il congiorno Maranto non conceda la prelazione che succede? è che se spengono i tempi legali andiamo avanti comunque però dobbiamo attendere i tempi legali comunque avete chiesto anche che ritirino l'esposto? io personalmente no no si è parlato di questo acquirente maltese è confermato ecco che sia di Malta? si si è quello che avete letto sui giornal quello della Jay Nicole Corporation è probabile a questo punto che arriverà prima l'udienza dell'annuncio? no no dovrebbe essere tutto domani a tutti i tempi diciamo canonici col sindaco non vi siete risentiti col sindaco? no io ho comunicato quello che era il giorno della firma dell'accessione della proposta ho comunicato con lui che stavo andando avanti ma se viene formalizzata la cessione questo cambia qualcosa poi per l'udienza o può essere dichiarato comunque fallito? può essere dichiarato fallito se non ha la liquidità per affrontare questa situazione ma come se andiamo avanti questa liquidità ci sarà io ho scongiurato questa situazione non fallirà se arrivano i soldi entro il 15 l'udienza non i soldi poi chiaro sta sempre il giudice di valutare l'administra allora dice continua a fare a dire domani dice scongiuriamo il fallimento perché ci sono le liquidità e se il giudice vede i quattrini sostanzialmente valuterà lui però insomma se ci sono liquidità il fallimento non ci sarà è strano capire che cosa stiano se non evitare il fallimento e proteggere non solo se stessi e soprattutto chi ha gestito l'arizzo degli anni precedenti assicurativa sì vabbè io parlo con il mio giudizio personale diciamo che a Gatto non credo più finché non ci sono delle delle prove tangibili di quello che sta facendo questa società maltese non si sa chi sia non si sa che capitali abbia non si sa che potenzialità economiche abbia rimane l'ennesimo annuncio o pseudo annuncio il tempo sarà galantuomo che vivrà vedrà siamo a poche ore da diciamo da primi giudizi definitivi quindi vedremo io non sono molto speranzoso in questa soluzione Mario il fatto che abbiano pagato che abbia pagato alcuni uno più debiti poi non è chiaro quanti ne abbia effettivamente pagati quelli minori però perché se voler pagare eh dovrà cominciare magari dalla squadra no e allora era un segno tangibile il fatto che abbia pagato diciamo quelli più piccoli che cosa può voler dire ha pagato quelli che sono andati a fare l'istanza a fare l'istanza di fallimento quindi lui giustamente siccome questi vic avranno sicuramente da perdere qualche cosa perché si può anche verificare l'ipotesi di una bancarotta prodoletta insomma e quindi va a monte anche lo stesso Ferretti io credo che dietro ci siano tutto questo quindi cercano in qualche modo di allungare e andare avanti la sensazione è dire anche questo gatto questo fondo che scopo ha venire ad Arezzo per far che cioè voglio dire qui ci si sta prendendo in giro veramente mancano i presupposti manca la logica di prendere una squadra e investire dei danali si investe se c'è un progetto se c'è un qualche cosa ma no all'ultimo tuffo a trovare qualcuno che forse serve per allungare chissà che cosa e non va bene così e no sarebbe sembra l'ennesima presa in giro e dà fastidio veramente ci dà a noi a tutti ecco anche l'unica cosa che forse non si aspettavano istanze di fallimento così veloce cioè io penso nel loro perché anche venire qua a fare quell'annuncio no continuare a dire vendo speravano di arrivare alla fine della stagione secondo me speravano esatto la soluzione sì questo è stato un intralzo fra virgolette per loro e quindi cercano in qualche modo di tamponare ed evitare il discorso fallimento però dal giudice giovedì ci vorranno delle cose pratiche no gli annunci nel giudice non credo che vadano bene sicuramente no e quindi insomma è una cosa ecco perché poi si dice spesso Mario no la federazione o la lega non dovrebbe però visto molte critiche si leggono non dovrebbe permettere a questi qui avventurieri di fare pro come fai o metti dei paletti però ancora più stringenti però poi chi li controlla siamo sempre lì la situazione insomma io parto sempre dal Modena Arezzo ma dietro ci sono tante altre società in lega pro che hanno grossissime difficoltà ad arrivare al 30 di giugno non guardiamo che purtroppo la gestione i costi di gestione sono altissimi e di questo si entra in un argomento che a me io dico sempre lavoriamo su settori giovanili non deve essere il settore giovanile dell'Arezzo un settore giovanile solo per tamponare perché la lega ti impone di fare certe categorie no di crederci di prendere qualche ragazzo il territorio ci sono dei ragazzi interessanti che possono andare in prima squadra io non mi stancherò mai di dirlo essendo io nel settore dilettantistico curando i vari campionati eccellenza e promozione un settembrini che io sabato ho visto in televisione mi sono visto tutta la partita del Cittadella con un settembrini che l'avevo nella rappresentativa ragazzo che nasce qui ad Arezzo che ha giocato nella San Sovino che ha giocato come si fa a farli Martinelli che è nel Prato volevo dire tutti i ragazzi che nascono dai settori giovanili delle nostre squadre dilettantistiche non si sono nemmai presi in considerazione nessuno che prende bisogna far venire per forza gente da altre città questa è una cosa che io non concepisco e oggi ci troviamo a fare delle gestioni avere 27 28 giocatori a stipendi secondo me esagerati proporzionata dopo il mercato di gennaio è diventata anche ridicola fa capire quante difficoltà ci sono invece una gestione oculata non c'è bisogno di spendere chissà che cosa soprattutto perché Mirko vista la situazione che conoscevano perché amministra una società all'oscuro nel senso ovviamente sia il presidente di Ferretti e chi c'era nella società in quel momento lo sapeva di questi debiti che c'erano quindi continuare con quel tipo di scelte che poi hanno portato a quasi 2 milioni di debito e poi addirittura a gennaio chi doveva venire a fare il mercato di contenimento dei costi parole di Matteoni li ha lasciati uguali e io dico forse che sono anche aumentati e forse anche qualcuno ovviamente ci ha lucrato è molto probabile ecco si poteva evitare in vari punti in varie stappe questo epilogo si poteva evitare però io permettimi una parola concordo con Tracci perché anche io poi vengo diciamo dal mondo dilettantistico ho fatto il settore giovanile nell'Arezzo ho avuto questo privilegio questa fortuna però volevo dire questo appunto l'Arezzo diciamo può essere aiutata tra virgolette proprio con un lavoro in sinergia con le squadre dilettantistiche perché ci sono dei settori giovanili delle realtà che sfornano diciamo dei validissimi ragazzi dei validissimi giocatori da cui l'Arezzo appunto può andare a pescare e vado oltre nel senso io spero che in futuro anche a livello comunale si possa affrontare un discorso diciamo di revisione di un po' di quelle che sono tutte le strutture gli impianti sportivi che il comune può mettere a disposizione questa amministrazione finalmente se ne sta occupando ma era diciamo se ne sta occupando a seguito di un immobilismo di anni con strutture che sono diventate sempre più fatiscenti dove sono magari stati realizzati degli abusi adesso l'amministrazione se ne sta occupando ma ci vuole tempo per regolarizzare tutto il processo ci sono squadre dilettantistiche che vorrebbero diciamo iniziare quindi come start up oppure già in essere che vorrebbero incrementare o appunto iniziare un settore giovanile quindi affrontare questo discorso a 360 gradi a livello dilettantistico quindi come infrastruttura per poi far sì che una società sana con un progetto sano possa lavorare in sinergia con queste squadre ci fermiamo un attimo torniamo subito ultima parte da tutto campo allora c'è arrivata adesso una dichiarazione di Pupo che era al premio Civitas Arezzi in comune che parla dell'Arezzo addirittura si dice disponibile a intervenire anche personalmente sentiamo un attimo mi permetti no ripiglio anche se non è protocollare dopo che ha parlato Pupo ci ha ricordato che giustamente è l'autore dell'inno dell'Arezzo ma vogliamo pensarci tutti a starezzo in questo periodo così difficile per far sì che si continui a cantare in serie cisto inno per piacere io infatti non mi sono ancora sbilanciato chiaramente l'anno scorso feci dei gesti anche propagandistici comprando il primo abbonamento e tutto io se imprenditori aretini volenterosi hanno nel cuore di portare di nuovo all'Arezzo non dico di portarlo chissà dove ma di portare la dignità sportiva a questa città io ci sono io ci sono con il mio piccolo contributo che in virtù delle mie finanze comunque può aggiungersi a quello di altri imprenditori quindi cercatemi se avete idea insomma di fare una cordata seria grazie il problema il problema è che c'è sempre questi segni non è che Pumbo deve fare veramente salvare l'Arezzo però tanti dicono se c'è qualcuno ma questi imprenditori aretini lo dicevamo nella pausa anche chi potrebbe a livello di disponibilità ha molti timori magari ne so di prendersi lo striscione perché si sa basta che fai qualcosa anche involontariamente e poi essere sbeffeggiato comunque anche Mancini che ha portato l'Arezzo a livelli impensabili paragonati fino ad adesso quanto è stato bersagliato sicuramente per errori che ha fatto ma quel calcio l'abbiamo visto e quindi anche chi ha fatto bene è sempre finito un po' sulla graticola chi fa calcio ovviamente cioè chi vuole far calcio non può pensare a quello che possono essere eventuali futuri diciamo accuse o discriminazioni varie chi ha voglia di far calcio lo deve fare le critiche fanno parte di questo gioco esprimo un'altra considerazione personale se devo sperare in qualcuno mi fido più di Pupo che di Gatto insomma spero che magari la sua dichiarazione possa essere diciamo da apripista per qualche imprenditore di Arezzo appunto per unirsi a questo invito e tra l'altro tu magari è stato tra i saggi vero la scorsa volta i famosi saggi no che avevate un po' diciamo in dato indicazioni alla precedente amministrazione si c'era Fanfani con la De Robertis ci chiamò c'ero io c'era Graziani eravamo tra o quattro perché c'erano in quel caso delle offerte quindi volevano comprare l'Arezzo quindi il sindaco praticamente chiese a noi di valutare questo tipo di domande e fare una scelta quale era la più attendibile a questa situazione era più facile perché si partiva da zero cioè nel senso non era tanto era mettere insieme qualcosa di nuovo dalla serie D senza debiti senza debiti però pagando in quel momento lì c'erano 300 mila euro che la federazione voleva per ripartire dalla serie D e poi venne fuori Massetti che poi salvò l'ultimo retino perché poi da lì si passano Severini comunque l'affare di Pupo mi è piaciuto ti è piaciuto nel senso che ecco è già uno che si espone in prima persona che dichiara io ci sono sono qui mettiamoci al tavolino magari fossi il sindaco lo prenderei come punto di riferimento è un'organizzazione in questi 3 o 4 giorni per essere un punto di riferimento per tutto il territorio e è bello perché essendo uno di Arezzo che almeno ci sta mettendo la faccia in primis allora Mario in conclusione adesso vedremo degli scatti che ti riguardano perché sei andato nella sede dell'UEFA raccontaci ecco brevemente che cosa come è andata che ci avevi annunciato la scorsa volta sì era l'appuntamento dopo le vittorie a livello Juniors a campioni d'Italia sia per questa stagione che nella precedente stagione non questa attuale nelle due precedenti stagioni sportive siamo stati dalla Lega Nazionale dei Lettanti praticamente si rappresenterà l'Italia al prossimo torneo della Region Cup in questo caso siamo stati a Nyon dove c'è sono le qui vediamo proprio con il presidente Siviglia e il presidente regionale Mangini eravamo le a Nyon per il sorteggio noi praticamente abbiamo fortunatamente superato il torneo il preliminare perché essendo un test di serie numero 5 insieme alla Russia la Germania siamo passati direttamente al torneo intermedio queste qui siamo 32 nazioni suddivise in 8 gironi da 4 e le vincenti andranno poi nel 2019 a fare le finali quindi verrà stabilito dove il sorteggio è stato abbastanza discreto fra virgolette c'è la Polonia la Moldavia e la Svizzera per quanto riguarda l'organizzazione è stata l'UEFA ce l'ha accettata a noi lo organizzeremo noi in Toscana e se mi riesce sto già lavorando per portarlo qui nella zona dell'Arettino fra Rezzo e Siena sarebbe bello a poter organizzare questo torneo UEFA con queste 4 insomma con altre 3 nazioni quindi sarebbe una bella cosa per me è il massimo perché insomma di fatto si rappresenta l'Italia rappresentiamo l'Italia a questo torneo quindi la Toscana sta toccando i vertici veramente impensabili quindi ci fa molto piacere non ultimo proprio prossimi giorni il 23 di questo mese partiamo per l'ennesima esperienza e prova in Abruzzo per il torneo delle regioni ma il torneo è un girone importante perché l'Umbria la Sardegna e la Campania la prima partita sarà proprio il 25 il 24 contro l'Umbria di marzo abbiamo la prima partita con l'Umbria quindi vedremo di poter insomma siamo per due anni consecutivi campioni d'Italia siamo la regione da battere e tutti ci guarderanno si impegneranno alla morte ma insomma noi abbiamo fiducia anche in questi ragazzi che è una bella squadra anche quest'anno e andremo fiduciosi a fare questo torneo io ringrazio molto ti faccio i complimenti ovviamente a Mario Tralci per questa bella esperienza e per il tuo grande impegno a livello regionale della FGC e anche a livello giovanile e grazie anche per averci fatto capire meglio quelli che potrebbero essere i scenari grazie a Mirko La Torraca ci rivediamo presto buona serata